Che fotografia scatta questo rapporto del nostro territorio? Ma guardi ancora il rapporto dà un dato di crisi occupazionale, il saldo occupazionale cioè le entrate nel mondo del lavoro meno le uscite è un saldo occupazionale negativo di meno 230 unità ma se vogliamo guardare i dati in controluce vediamo che questo saldo è il rallentamento rispetto all'anno scorso anno quando il saldo era negativo per 540 unità, l'anno prima ancora 590, 4 anni fa 1.550 quindi abbiamo un saldo negativo, sempre negativo ma in miglioramento negli anni. Sono nel provincia di Arezzo soprattutto le imprese medio-grandi, quelle più innovative, quelle con proiezioni internazionali ad assumere e assumono per il 53% diplomate laureati. In provincia di Arezzo il totale delle assunzioni previste nel 2016 sarà di 3.070 unità e con prevalenza per quanto riguarda medium skills quindi con professioni connesse con la vendita, connesse con la ristorazione, connesse con operai qualificati nelle aziende della nostra provincia. Un ultimo dato che vorrei evidenziare è come anche la laurea nella provincia di Arezzo sia in crescita sensibile come richiesta da parte delle imprese. Quali sono i settori che stanno meglio e quelli che stanno peggio? Guardi, complessivamente dire che c'è un settore che sta meglio rispetto agli altri sarebbe sbagliato. È corretto dire che ci sono all'interno di questi comparti aziende che vanno meglio rispetto alle altre. Soprattutto quelle nel comparto manifatturiero legate all'export e proprio di stamani l'uscita all'interno del sole 24 ore sul fatto che siamo la prima provincia in Italia per export in rapporto al numero della popolazione. Quindi questo è un dato che dobbiamo cogliere assolutamente con favore. E poi anche all'interno del mondo dell'agricoltura sono quelle aziende che in qualche modo si sono riuscite a essere più dinamiche, più innovative sia nell'agricoltura che nel manifatturiero ma direi anche nei servizi. Queste sono quelle che per certi aspetti possiamo dire che vanno meglio dalle altre.